La dottoressa Sara Bartola, ex giocatrice di pallavolo, e Robert Lendi-Simon, pallavolista della Lube, sono i protagonisti del nuovo spot promozionale della campagna vaccinale itinerante. Questa partita possiamo vincerla solo insieme. Con unità mobile saremo presenti nei prossimi giorni in tutti i comuni del territorio. Cinque camper, uno per provincia, per intercettare quanti più soggetti possibili, tra coloro che ancora non hanno aderito alla profilasse, ad oggi sono 250.000 marchigiani che non hanno prenotato. Ad illustrare il piano questa mattina sono stati l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, il direttore di Asur Marche Nadia Storti e la direttrice dell'area Vassa 3 Daniela Corsi. I vaccini sui camper, hanno spiegato, sono aperti a tutti per la prima dose, in particolare agli over 60, cioè ai soggetti più a rischio. Non sarà necessaria la prenotazione e si partirà dalle zone più disagiate. Questa sera, fino alle 23, un mezzo sarà a Senigallia, in Piazza della Libertà, davanti alla Rotonda Mare. Per le inoculazioni, poi, saranno disponibili tutti i tipi di vaccino, compresi quelli monodose dell'azienda Johnson & Johnson. Saltamartini ha parlato anche della carenza delle dosi avuta tra il 20 e il 26 luglio, un problema che è stato risolto con una ridistribuzione. Tra luglio e settembre arriveranno nelle Marche 500.000 vaccini. Inoltre, ha annunciato l'assessore, dopo una sperimentazione l'Asura ha avviato la procedura per i tamponi salivari. Ne acquisteremo in quantità adeguate, ha precisato, per far sì che l'attività scolastica possa ripartire in sicurezza. Ad esempio, di fronte a un focolaio non sarà necessaria la quarantena, perché verrà accelerato l'accertamento della positività, garantendo ai ragazzi i percorsi scolastici adeguati. All'inizio di quest'anno abbiamo detto che nel mese di giugno e luglio avremmo raggiunto un milione di vaccinati e questo obiettivo è stato perfettamente centrato. Noi stiamo superando il milione di vaccinati con la seconda dose, quindi abbiamo messo in sicurezza una bella fetta della popolazione. Quindi siamo una delle regioni in testa a livello nazionale, come rapporto tra numero dei vaccinati e popolazione residente. La fascia della popolazione con più di 60 anni che rischia di più evidentemente viene invitata ad operare una vaccinazione che magari non è stata programmata e per questo ci avviciniamo noi, per esempio, alle zone terremotate piuttosto che alle zone montane e alle colline dove i problemi anche di comunicazione, di telecomunicazioni possono avere anche impedito l'eventuale programmazione della vaccinazione. I camper sono stati acquisiti tramite la protezione civile. Abbiamo dato indicazioni a tutti i direttori di Aria Vasta, ha spiegato la dottoressa Storti, sullo standard minimo all'interno dei camper. Ogni mezzo è dotato di un frigorifero per la conservazione dei vaccini e di un computer per rimanere collegati con la piattaforma di poste italiane e verificare se il paziente è già stato vaccinato. Inoltre ci sarà uno zaino di emergenza con i farmaci e i dispositivi utili a un'eventuale reazione allergica. Sul camper, oltre all'autista, saranno presenti un medico e due sanitari, infermiere e DOS, mentre fuori verrà installata una tenda per far soggiornare le persone. Il servizio al momento non è dedicato ai turisti che invece dovranno recarsi nei vari hub del territorio. Però il rispetto della persona umana esige che ci sia una libera scelta consapevole nel vaccinarsi. Io continuo a dire che dobbiamo avere fiducia nella scienza. Dobbiamo continuare a dire che la maggior parte di persone che sono decedute è perché non sono vaccinate. Ma però esiste il principio e il diritto di chi non ci crede a non vaccinarsi. Quindi non sono per la coartazione. Tanto più nel momento in cui questo obbligo non può essere coercibile. E il fatto stesso che ci sia un successo straordinario di persone che si avvicinano ai camper per vaccinarsi significa che la ragione sta prevalendo, se permettete, anche sulla coartazione. C'è da rispettare in una società democratica le minoranze, no? Perché diciamo che ormai questa è diventata una minoranza tra le persone che si sono vaccinate. Le minoranze vanno sempre rispettate. Facciamo squadra. Vacciniamoci tutti. Vaccino. Vittoria. Vita.